Io do forfè. Tu? Ti stai ritirando? Sto dando forfè diverso. Sentite, ci ho pensato. L'Igolfang non è che una variante del Cobra Kai. E il Cobra Kai è l'eredità di John Chris. Non voglio avere niente a che fare con quello. E poi voi avete reso me un sensei migliore. E i miei allievi più forti, anzi, i nostri. Non voglio più insegnare solo l'attacco, ma contribuire a portare il Miyagi-Do alla vittoria. È quella l'eredità che deve continuare. Il Miyagi-Do è fortunato ad avverti. Sì, è vero. Ok, sono contento che non combattiate più. Che ha detto che non combattiamo? Ehi, aspetta, perché? Perché no. Perché no. Guardatemi. Inchino. Guardatevi. Inchino. Pronti? Ce n'è voluto per arrivare qui. E ora finalmente siamo dalla stessa parte. Abbiamo accantonato le vecchie rivalità. E' ricominciato da capo. Ora siamo tutti Miyagi-Do. Ma è un Miyagi-Do nuovo. Il più forte mai esistito. Il più cazzuto. Un solo scopo. Un solo team. Un solo dojo. Con un nome intriso di tradizione e onore. E un logo nuovo di zecca. Perciò tenetevi pronti. Ora che abbiamo chiarito le cose, il Miyagi-Do è pronto per quello che il mondo gli diserva. Attra oltre cose, l'LI-LASSI-DSE siamo e le cose, la dice 협 cũ õ